Buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti con noi questa sera. Questa è la seconda delle tre serate di musica dal vivo di Percorsi Diversi, che è una manifestazione voluta dall'Associazione Culturale dell'Antearte di arti visive e musica. L'intento è quello di porre in collegamento, come già abbiamo spiegato ieri sera durante il primo concerto, le arti visive e l'arte musicale in base a tre tematiche, che sono quella della serialità, quella del misticismo pitagorico e quella delle realtà oniriche. Questa sera, col concerto di pianoforte solo di Antonio Materazzo, su un repertorio che è quello della musica contemporanea, poniamo in collegamento il misticismo pitagorico delle sculture di Giovanni Arone, che sono esposte qui nel Museo della Memoria, con un repertorio che è quello della musica contemporanea, un repertorio sicuramente non di facilissimo approccio. Per questo, e non solo per questo, vogliamo realizzare una piccola, breve introduzione all'ascolto, ponendo diciamo delle questioni, delle domande al nostro Antonio, e cominciando con delle parole che ha scritto lui stesso qualche tempo fa, studiando proprio questo repertorio, e gli autori che andrà a eseguire questa sera, autori che sono Arvo Part, Giorgi Ligeti, John Cage, Luciano Berio e Giorgio Ivanovic Gurgè. Quest'ultimo non inserito nella corrente della musica contemporanea, nelle vanguardie della musica contemporanea, ma sicuramente molto interessante dal punto di vista del tema del misticismo pitagorico. Quindi qualche tempo fa Antonio scriveva la conoscenza e la verità attraverso dei messaggi universali. La musica, dunque, provocherebbe degli effetti oggettivi su qualsiasi ascoltatore. Si parla per questo, con Gurgèf, di musica oggettiva. Allora io chiedo ad Antonio, è questo che ti ha, in un certo senso, comunicato la musica di Gurgèf, di Gurgèf e di The Hartman, perché dobbiamo sapere che la musica di Gurgèf è una musica scritta, in un certo senso a quattro mani, da Giorgio Ivanovic Gurgèf e Thomas Alexander The Hartman. Gurgèf donava le sue melodie che venivano da un altro mondo, un mondo prettamente orientale, a questo compositore russo che poi armonizzava queste melodie. Quindi è un repertorio nato da questi due individui, da questi due musicisti, possiamo dire. Allora, è questa oggettività nella musica che ti ha comunicato la musica di Gurgèf e The Hartman? Buonasera a tutti, io vorrei ringraziare prima di tutto Fabrizio per avermi ospitato in questa manifestazione molto originale. E lo ringrazio anche per il coraggio nel proporre questo tipo di repertorio così particolare, così poco frequentato al pubblico della nostra città e spero che sia proprio un primo passo affinché il pubblico possa apprezzare sempre di più la musica contemporanea. Come accennavi tu, rispondendo alla tua domanda, l'idea che la musica possa determinare un cambiamento nell'animo dell'ascoltatore esisteva già ai tempi di Pitagora. Più in particolare Gurgèf, grazie all'aiuto del suo amico e compositore The Hartman, compone questa musica per pianoforte un po' in ricordo di un lungo pellegrinaggio che lui fece nei paesi orientali, dove ebbe modo di conoscere tradizioni musicali molto differenti fra loro, però tutte accomunate dall'idea della danza come momento di ritualità, quindi la danza all'interno dei riti religiosi. E credo che la lettura, per comprendere il significato di musica oggettiva in Gurgèf, è legata proprio allo spirito della danza, che è presente moltissimo nella musica di Gurgèf. C'è da dire che in queste danze di questi popoli molto lontani da noi, ogni movimento del corpo aveva un messaggio nascosto, quindi aveva un determinato significato. Gurgèf in un certo senso ha tentato di trasporre questo in musica, per cui creando delle atmosfere sonore, delle frasi musicali, che in un certo senso trasmettono un messaggio. Naturalmente si tratta di un messaggio in codice, quindi è necessario che l'ascoltatore riesca a codificare questo tipo di linguaggio e per farlo ovviamente c'è bisogno che l'ascoltatore conosca in profondità, molto in profondità, il pensiero di Gurgèf e soprattutto che faccia proprio i suoi insegnamenti. Questo sicuramente è interessante, ieri abbiamo avuto una conferenza, sì, proprio ieri abbiamo avuto una conferenza nella inaugurazione di questa manifestazione di questo scultore protonese, Giovanni Arone, che ha spiegato come Pitagora, che è più o meno lo scopritore della nostra scala musicale, colui che andò a individuare i rapporti armonici fondamentali, questa quarta giusta, questa quinta giusta, questa ottava, che appunto lui e tutti i suoi discepoli, in questa scuola che era molto più che una scuola che un cenacolo intellettuale, ma era una vera e propria scuola sapienziale, si parla della scuola sapienziale italica, utilizzassero proprio la musica per addirittura arrivare a ingenerare nell'essere umano determinati sentimenti, per riuscire quasi a guarire o anche in certi casi a distruggere l'essere umano. Quindi la musica, tanto nei fiati quanto nelle corde, riusciva a essere utilizzata in questo senso. Insieme al repertorio di Gurdjieff, che portiamo questa sera, abbiamo fatto una selezione di brani, portiamo anche un brano di Luciano Berio. Luciano Berio che è stato un compositore importantissimo del secondo novecento italiano, fa parte di queste avanguardie musicali che dal secondo dopo guerra in poi si ritrovavano ogni estate a Darmstadt, cittadina tedesca, per questi ferie in curse, questi corsi estivi di composizione con maestri del calibro di Arnold Schoenberg e altri. Ferie in curse dove sono passati tutti i grandi musicisti contemporanei, da Bules a Nono, a Maderna, Xenakis, Ligeti e tanti altri. Noi abbiamo scelto un brano che è Fasser Klavier, quindi pianoforte d'acqua. Ok, come mai, ecco, questo è uno di quei brani che non risente moltissimo della ricerca delle vanguardie musicali, non è proprio, no, è anche di un periodo leggermente antecedente allo sviluppo di quella ricerca, forse anche in certi casi molto ostica, di queste vanguardie musicali e della musica contemporanea. Come mai la scelta di questo brano? Come dicevi tu, Fasser Klavier si differenzia moltissimo dagli esperimenti sulla musica elettronica, di cui Berio è stato un pioniere in Italia. Fasser Klavier, Berio compone una raccolta di pezzi che è intitolata Six and Course, quindi sono sei pezzi e quattro di questi sono dedicati ai quattro elementi naturali. Nello specifico, Fasser Klavier, che vuol dire proprio pianoforte d'acqua, è dedicato all'acqua. L'immagine che Berio ci vuole evocare è un po' quella di un piccolo sasso gettato in uno stagno, con le piccole ondicelle che si formano e che man mano che si allontanano dal centro scompaiono. Credo che sia anche curiosa la nascita di questo pezzo. Fasser Klavier venne composto nel settembre del 1965 e durante un incontro fra Berio e alcuni amici a casa di uno di loro durante questa serata ascoltano due pezzi importanti del repertorio pianistico tradizionale, classico, cioè l'intermezzo opera 117 numero 2 di Brahms e l'improvviso opera 142 numero 1 di Schubert. Quindi poi questi amici discutono sull'interpretazione di questi pezzi e le riflessioni che escono fuori servono a Berio come spunto per comporre Fasser Klavier e che, come ho detto, ha un rapporto molto stretto con questi due pezzi. Per quanto riguarda Schubert, Berio riprende la tonalità, che è il fa minore. Invece il legame con Brahms è ancora molto più stretto e l'intermezzo di Brahms inizia in questa maniera. Ora, queste prime due note sono esattamente le prime due note con cui inizia Fasser Klavier, che inizia così. E queste due note continuano ad esserci nel pezzo quasi in maniera ossessiva. Sì, andando oltre Ligeti Ligeti che è un altro di questi compositori della musica contemporanea che viene utilizzato anche da più volte da un regista come Stanley Kubrick la prima volta in 2001 di Sè nello spazio con un episodio anche abbastanza simpatico Kubrick si appropria del lux eterna di quest'opera di Ligeti senza quasi avvisarlo. Ligeti ritrova la propria musica all'interno di questo capolavoro del cinema mondiale e ne nasce anche una causa giuridica tra i due vinta poi chiaramente da Ligeti. Una seconda volta Kubrick decide di utilizzare una delle musiche di Ligeti ed è nell'ultimo dei suoi film, tutti i capolavori, Ice Wet Shot del 99 ed è proprio un brano di quest'opera uno dei brani che abbiamo selezionato di quest'opera che Antonio ci farà ascoltare questa sera che è musica ricercata, opera del 53 opera del 53 che è direttamente ispirata a Belabarto un compositore molto più anziano di Ligeti che muore se non sbaglio proprio quell'anno o giù di lì e che ispira appunto tutta quest'opera con un linguaggio molto minimale. Questa è un'opera di 11 brani si parte dal primo con due sole note man mano che si va avanti lungo tutti i brani Ligeti aggiunge ogni volta una nuova nota ci vuole in un percorso sicuramente molto ragionato in un certo senso ci vuole dimostrare come con pochissimo materiale si può fare tantissimo il brano che Kubrick decide di utilizzare in Ice Wet Shot è il numero due, il movimento numero due di questa musica ricercata e si avvale così di sole tre note che sono questo mi diesis, fa diesis, sol vogliamo sentire un secondo? Sì, allora, questo brano è strutturato in due parti principali nella prima parte viene presentato una sorta di frammento tematico che è costituito dall'alternarsi di queste due note il mi diesis e il fa diesis fa così che dà una sensazione di, ci trasmette una sensazione di ansia, di tensione, di sospensione in linguaggio cinematografico di suspense quasi come se dovesse succedere qualche cosa e in effetti qualche cosa succede nella seconda parte del brano dove è sempre presente questo frammento tematico ma in più viene aggiunta questa terza nota, il sol di battuta che è quasi una sorta di punto interrogativo di dubbio rispetto a tutto quello che è successo in precedenza io credo che musica ricercata sia veramente un pezzo geniale scritto, composto da un compositore geniale qual'era Ligeti che come dicevi tu Fabrizio con solo i 12 suoni ha composto un'intera raccolta di 11 pezzi e ognuno di questi pezzi ci vuole raccontare una storia brevissima che è fatta di emozioni, di sensazioni, di atmosfere quindi il secondo con questo stato di ansia, di tensione il terzo come poi avete modo di ascoltare dà le sonorità molto aspre il quarto invece è una sorta di parodia del balzer il quinto invece è caratterizzato da un lamento veramente quasi ossessivo che sembra non avere mai fine il sesto invece è molto più ubrioso giocherelloso, fanciullesco ricorda un po' i giochi infantili e l'ultimo invece, il nono con i rintocchi delle campane che non a caso, in questo momento rintocca che risuona l'ambuzzo però per la morte di un altro grande compositore ungherese che è appunto Bartok e quindi questo brano è dedicato a... esatto che Ligeti dedica proprio a Bartok e a cui Ligeti si ispira nel suo linguaggio musicale diciamo che per il discorso del misticismo in musica tre di questi cinque autori sono quelli che più di tutti gli altri lo portano nelle proprie opere sono Arvo Part quindi Arvo Part, Gurdjieff e John Cage John Cage che è l'autore di un'opera molto celebre che sono questi 4 minuti e 33 secondi di silenzio che non eseguiremo questa sera Arvo Part che è un autore molto particolare Arvo Part fa parte delle avanguardie musicali del Novecento come tutti gli altri ma a un certo punto sceglie di chiudersi in un silenzio un silenzio che dura addirittura 8 anni in 8 anni lui non scrive più una nota esce fuori da questo silenzio col brano che ascolteremo questa sera che è Furalina ed è un brano che rispecchia perfettamente quello che poi è stato definito il suo stile che è lo stile del Tintin Napoli dal latino appunto Campanelli la cui caratteristica principale di questo stile appunto è individuabile appunto nella presenza di queste due linee melodiche una si muove per grado congiunto un'altra per arpeggi o meglio ancora per triadi per chiudere questa introduzione cosa ti ha dato Arvo Part? cosa ti comunica Arvo Part? come anche le atmosfere che hai trovato e nella prima domanda che ti ho fatto Gurdjieff? e riprendendo quello che dicevi sullo stile di Tintin Napoli questo pezzo di Arvo Part come dicevi tu è costruito su due linee melodiche queste due linee si sovrappongono una è suonata dalla mano destra è fatta sinistra così l'altro invece è dalla mano sinistra come notate fin da subito Part vuole proprio imitare i suoni dei campanelli a cui si rifà proprio questo stile Tintin Napoli c'è un'intervista che Arvo Part ha fatto dove afferma che queste due linee melodiche sono un po' come due persone i cui cammini sembrano incrogiarsi però non ci riescono mai quindi sono due linee melodiche che camminano parallelamente si allontanano si avvicinano senza però mai incontrarsi e quindi crea un'atmosfera davvero di sospensione che è un po' il tema della siccome parliamo appunto di misticismo e di spiritualità è il tema poi della dualità in un certo senso quindi Part vuole con queste due linee melodiche ispirarsi a quella che è la dualità che diciamo rende succube ogni essere umano in cerca di un terzo questa santa trinità che parte cerca per tutta la sua esistenza Furalina ha un collegamento strettissimo con il misticismo pitagorico che cos'è questo misticismo pitagorico? Pitagora fonda tutto il suo pensiero sulla cosiddetta mistica del numero cioè ogni numero ha un suo mistero ha una sua individualità per esempio il 4 rappresenterebbe la giustizia perché è rappresentato dal quadrato il quadrato ha 4 lati uguali e quindi rappresenta l'idea dell'ordine secondo i pitagorici i numeri principali sono proprio i primi 4 4 come sono gli elementi naturali di cui parlavamo prima con Berio questi 4 numeri la somma di questi 4 numeri fa 10 secondo i pitagorici rappresenta l'intero universo che loro rappresentavano con un triangolo equilatero la cosiddetta tetrattide la santa tetrattis esatto e una relazione simile tra i numeri c'è proprio nel pezzo di Arvopart perché? allora questo pezzo è strutturato in 15 battute che hanno una simmetria perfetta o quasi perfetta e ad ogni battuta viene aggiunta una nota in più per cui si parte dalla prima battuta con una nota poi seconda battuta due note terza battuta tre note e così via fino all'ottava con otto note poi dalla non in poi viene tolta una nota in meno si arriva alla quattordicesima battuta con due note e poi si dovrebbe concludere la quindicesima con una nota eccezionalmente parte la fa concludere con tre note quindi lo schema numerico che potete seguire se volete durante l'ascolto è questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2 e si conclude con tre e questo collegamento con il misticismo è anche presente in Cage in Dream che in un certo senso ci vuole evocare il mistero del sogno come un luogo in cui evadere dalla realtà di tutti i giorni è un pezzo caratterizzato da un'atmosfera di torpore continuo infinito dove tutto sembra indistinto il tempo non ha una durata vorrei invitarvi ad ascoltare questo pezzo chiudendo gli occhi e immergendoli ognuno nel proprio sogno staccandosi quindi almeno per un attimo dalla realtà di tutti i giorni insomma dalle fatiche di tutti i giorni va bene allora io lascerei tutti al concerto di Antonio farei un applauso grazie 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 grazie